Stava facendo con Nina quello che fa con i cani moderni. Quello che ti fa attraverso. Non fanno questo. Si incorrono. Ma quanti dei cani moderni fa questo con Epi? Non sono di casa. Quindi non ha paura dei cani grandi. Non è che ha paura, che si stufa magari un po'. Però, siccome noi prima... State parlando troppo. A lei non è piaciuto. Si è scrollata. A Nina l'ha sbattuta per l'aria. A lei non è piaciuto. Si è scrollata. Quando si scrollano è come quando c'è i brividi, che c'è una sensazione brutta. E io lo farò capire.